Insieme ai chiavi di casa Perché? Perché i tuoi sono più comodi da portarmi giù Perché c'hanno il gancio Dove sono però? Dai dove sono? Dai! Ne sono Signori e signori abbiamo già fatto i primi tre Tre mondi e ce ne mancano due Per completare il primo mondo E andiamo su The Piz Signori lasciate un mi piace e un commento Cerchiamo di arrivare a 20.000 mi piace signori Se arriviamo a 20.000 like in questo video Domani ce ne saranno altri due Però non so se portarvene tre Adesso mi devo organizzare per poter fare questa richiesta ragazzi Perché non è semplice Non avendo una fibra Anche caricare due episodi non è per nulla semplice Allora ragazzi ricordiamoci che qua abbiamo Anche le scivolate Ok Chi sono i cici? Oh cavolo Mamma mia raga Ok No Devo premerlo questo per fare le casse Perché sono considerate come casse TNT eh raga Quindi Mi raccomando Oh cavolo La scivolata si fa con cerchio Santo Dio Devo provare a distruggerlo Ma si fa con cerchio raga C'è Ron ragazzi Ha finito Basta Cristo Cominciamo Come stavo a dire raga Ron ha finito Crash Warped Al 105% Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che Vabbè di Ron si sa che non ha una vita Ma vuol dire essere veramente Molto 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 bravi Quindi complimenti a te Davvero Ok Il primo checkpoint ce l'abbiamo ragazzi Incredibile Ma vero Abbiamo raggiunto il primo checkpoint Non ci credo Brrgda 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 Raga ma Oh Mi spiegate che cosa dice? Brrgda Brrgda Raga questi non mi promettono nulla di buono eh Sinceramente Comunque raga Sapete cosa vorrei fare Prima o poi? Fatelo sapere nei commenti Mi piacerebbe che Almeno un livello Di fare una sorta di sfida Con voi Ovvero Non prendere mai Come si attiva sta roba adesso? Non prendere mai checkpoint Gabbo Non puoi fare la scivolata a questi Neanche a questi Raga devo studiarmi Cioè c'ha le spine Ai lati È fatta apposta No? Santa l'ho Raga lo sapete che Dai porco L'inizio raga è sempre molto 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 difficile Per me Guarda 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 il Cristo Ok Tuccano di merda O pellicano Quello che c'è Dio Perché sto bastardo qua Parte alla fine raga Via 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 Scemo Crettino Tornare indietro qua Come funziona Ecco Meno male che sono tornato indietro raga Era anche più semplice la strada qui eh No basta Di là non ci vado più Mi dispiace raga ma non mi fido Sicuramente ci sarà il checkpoint Ma vabbè Qua non credo che ci sia bisogno eh Raga io incomincio a giocare meglio Su crash Quando mi metto quella crema Che mi ha dato scaf Perché veramente È veramente qualcosa di incredibile eh Il sudore che ho alle mani Ok Primo livello fatto Abbiamo mancato Nove Cassa ragazzi Le rifarò Le rifarò Comunque raga io non vedo l'ora di iniziare a giocare a Warped Perché Warped sarà veramente qualcosa di incredibile Infatti spero di riuscire a stringere molto molto bene Questo crash bandico 2 mortale da non farvelo pesare troppo Per poi dopo andare direttamente al nuovo Warped Infatti qua Questo livello Cioè questo video qua Cercherò di finire questo mondo e tutto quell'altro Vediamo se ce la facciamo Ok questo livello qua è così Questo mi Mi può dire che sicuramente ci sarà il masso che ci viene addosso Ah sì Corri crash Oh no così però Cos'è sta roba? Eh forse è meglio non prenderli quelli Primo checkpoint è andato ragazzi E ora bisogna stare attenti perché sicuramente ci saranno di più di sti cosi Ok Se ce ne metteranno uno sicuramente in una vieuzza piccola Holy shit Ok Una vita Ottimo Vai crash corri Questo sarà molto difficile ragazzi Me lo sento Vai bomber Zomp Nitro 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 Occhio È molto lontana ragazzi Quindi possiamo ragionarla bene Livello bonus Moffats Oh 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 Grande Bella quella raga Mi piace Mi piace La scivolata veloce Ok Forse è meglio di No Ho sbagliato Per me tutto il tasto dietro Dello scaf Cristo Vai gabbi squire Ah No Mamma mia Non mi ha dato la vita Bastardo No Guarda quante vite ho perso Non ci credo raga Oh ho preso il diamante GG Gabbi Bella Peccato per le vite Yeah Che belli i balli di crash Raga sono bellissimi Ripperù Abbiamo un ripperù ragazzi Siamo molto attenti Avete visto quel bastardo Che nel primo capitolo Si trasformava in Hulk Vuole che raccolga Tutte le 42 gemme Ma lui qua Non l'avevo Non l'avevo ucciso Non l'avevo mai ucciso Nessuno Però è diventato strano È diventato brutto È sicuramente Ok Cazza fa Ok Guarda me ne vado qua Bravissimo Oh oh Eh le nitro sono un po' Un po' rompicazzo Eh raga Ok È molto semplice Raga Molto semplice Siamo Oh oh Per la seconda volta Ti ammazzo Pirla Pirla Andiamo al secondo mondo Del signore miei Oh quello di ghiaccio Bello bello Andiamo su snowbeats Dai Giusto perché mi piace la neve Mi piace la neva Ok Comunque si scivola un botto Raga C'è un sacco di ghiaccio Ok Guardate un attimo Non si può Ok Occhio Ecco Oh raga Sono appena entrato Appena Sant'alò Ok I pinguini Sono stronzi Perché ti inseguono Oddio il riccio Holy shit Il riccio Ok Non si fa così Bisogna saltarlo Evidentemente Sì Scemo Vabbè Allora sono stupido Si vola No Ehm Come si fa qui Che ho saltato al massimo Ragazzi Si fa veramente Intensa la cosa Perché non scende Aspetta me O il bastardo Vediamo se posso Eh ci posso tornare su Ok Continuare a non prenderle Cioè incredibile Ah va sulla pressione Ok Checkpoint Holy shit Ci sono i cristalli Ah Madonna E come faccio Vado indietro Li aspetto Ma dio santo Le stalattiti Sei serio Ah ok No Pensavo di aver perso Stavo smattando Ragazzi Eh Pinguino bastardo Vuole le botte C'è il cristallo La signori Uh Là ci sono i pinguini Guarda lì Sti strozzi Ah 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 63 su 125 Sei serio La metà Ma guarda le botte Che si pia No perché No non le prende le botte Su questo non le prende Raga Air crash Qua mi hai l'idea di essere Per aria Sospeso Comunque il ghiaccio Mi piace parecchio Ragazzi Non calma ragazzi Nessuno mi torre dietro Bella mossa Gabbo Bella Oh oh Ah beh no Lì c'è la moto d'acqua Perfetto Mamma mia Che bella la moto d'acqua Bellissima Bellissima Come i piglio tutte queste Perché mi fa andare là No Non posso staccarla Tra la moto d'acqua Giustamente direi Ok Ok torna indietro Prendo questa Ottimo Holy shit Che cosa ho schivato Raga Bello gabbo Bello Mi sei piaciuto Un tot qua Mi sei un tot Piaciuto Eh ragazzi Sono entrato nel mood Della concentrazione Adesso ho parlato Qua ramo Uh Bravo G-disc Mamma mia Sì il bug Buge da Su Uca Ah no Qua non va il bug Ok Mamma mia Raga Stavo dando addio Qua Peccato Peccato per il finale Davvero Mamma mia Ancora 105 5 su 102 Mamma mia Che schiv Anche qua Raga Gli altri 50 Dove cazzo sono Beary C'è l'orso Raga Lo usavo sempre su crash bash Quello L'orso Qua mi sa che bisogna cavalcarlo Come il faccoccero Come pumba Nel primo Cazzo questo deve essere bello Peso è bello Raga Poi si stanno sul ghiaccio Ciao Sì sì Bisogna cavalcarlo Grande bomber Vai zio Può correre anche velocemente Ho perso una cassa Vai orsetto Ok Ma meglio Così recupero la cassa Checkpoint Il cristallo subito così Senza pensarci Le orche Mamma mia Le orche Oh mio dio No Ho perso una cassa Che sfiga No raga Cacchio Vai meglio Così mi becco la cassa No L'ho persa ancora Shit Oh mio dio Quanto è nitro Oh mio dio Vai Gabby Oh Dai Madonna mia Ragazzi Ho perso quelle due casse lì Scomettete Uh Dai devo fare la gemma qua raga Ho distrutto tutte le casse Sì ho perso quelle due casse lì Vaffanbego Potevo avere il diamante Che schifo Raga Quanto cazzo mi diverto Fa sto video Fa sti video raga mi diverto un bot Infatti siccome si vede anche da come sono Hai un po' fame crash Ah no Hai vomitato il diamante per le corte Crash crash Raga 44 su 57 casse Non mi dico che è finito Dai Ok Ho preso il diamante E qua raga li prendo tutti Perché giustamente Cioè Vabbè no Qua c'era anche la seconda via di fuga Quindi probabilmente Oh checkpoint Occhio eh Non è finita qua 51 su 57 Dai ma che cazzo guardi le casse Ma gioca Gabi squirting Una non mancata Dove cazzo è Dai ma che sfiga Mamma mia quanto mi diverto Signore quanto mi diverto In pratica la storia di crash bandico 2 Che stiamo aiutando cortex A ricostruire il mondo Che ha perso per colpa nostra Attraverso i diamanti Mamma mia Qua raga c'era una gara su Su crash Su ctr Ma la ricordo Bello bello Occhio alle nitro Ho tanto paura che Questo topo qua Ok Non bisogna darsi le scivolate Ok Ora destra o sinistra Io vado a destra Si apre con la porta No Devo stare attento Eh raga perché Yeah Cabine in mezzo ai nitro Come se nulla fosse Con calma Ok C'è poi Questo topo qua Devo ucciderlo Mi stavano fastidio Ok bonus Torniamo a destra Vediamo cosa c'è Stessa roba di prima Ma con due casse Spiegatemi perché Io dovrei andare là Perché io dovrei andare là Fatemi capire Si apre qua la porta No Mamma mia le vite ragazzi Undici vite Ops Eh sì Bar Come faccio Eh no raga Come faccio Ah si apre qua Buco Ah vai che bello Ci si 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 arrampica pure qua Che figata Eh questo Questo crash raga Era la rivoluzione Sto crash Ho visto tutti No E nitro qua Mi sa Eh qua Però bisogna stare attenti Eh Ok Bisogna studiare bene Il giro che fa Questo coso Mi viene rosso No Adesso no Ok Quando va là Ok adesso Vai Vai Gabby Mamma mia le mele Le meline Le meline Vai Mi sa che quando Si abbassano Ok Fatto Diamante Senza dirlo Bene Bene Bravo Gabby Bravo Se lo tira fuori dal culo Comunque eh Anche il diamante Bene Ah è contentissimo Come on the brothers C'è già il boss ragazzi qua eh C'è già il boss Attenzione potrei prendere neanche Coco Ma sinceramente non mi vai Io uso solo crash L'unica volta che ho preso Coco Ragazzi vi sapete che Brutta fine abbiamo fatto Comunque Qua ci sono i fratelli Ok Dobbiamo capire Come Distruggerli It won't be easy Oh Sultrimami i baure Ok Ok Abbiamo iniziato molto molto male Bisognerà schivare la sua pirouette Ok Ah che figata Ah 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 Scemo Oh oh Ok L'ultimo colpo Ora lui tirerà un sacco di maceti ragazzi Di spade Sicuro Sono qua Ehi sono qui Tutto qua Ma è così semplice Dai Sono qui Ah ecco Scemo Mamma mia Il livello più semplice Il boss più semplice ragazzi Che abbia mai trovato Su crash Veramente molto molto semplice Ragazzi si può già andare su Quindi abbiamo finito anche questo mondo Incredibile Signori Vi saluto e vi ringrazio Grazie mille a tutti per il supporto Ascettami mi piace Commento domani Ci vediamo con un altro mondo intero E oggi ho fatto due livelli in più Perché dovevo finire quell'altro Oggi o domani Non lo so ragazzi Se sono le 14 o le 18 Se sono le 18 domani le 14 Qui da Gabri Mi raccomando Mi piace signori Bella Ciao 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 Ciao